Scusami, non sono riuscito a venire prima, ho avuto troppo lavoro. Non sarai morta, eh? Povera, cucciola, come sei mal ridotta. Andiamo, coraggio. Ti ho comprato le verdure che volevi e ho preparato la zuppa come piace a te. È tutta tua, non devi più dividerla con nessuna. È per te, ma mangia qualcosa, ok? Io torno più tardi nel pomeriggio, d'accordo. No, no. Non scusami. Non! No! 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 Iva! Che cosa? Dessere qui! Iva! Iva! Aspettacie! No!